Continuiamo così con il binomio numero 4, Daniela Chiocciolini, Lady, si prepara in seguito il binomio numero 5. Daniela, quando vuoi? Puoi partire. Il primo giorno di una nuova estate, ho voglia di fare, tardi la sera, karaoke e Guantanamera. Trenta secondi a tua disposizione. È partita con il numero 4, Lamazzo e Daniela Chiocciolini che monta Lady, binomio che va da fuoco in barile. Situato sulla sinistra, stretta in ingresso, così come l'uscita. Viaggia veloce verso il barile, contrassegnato da... Vai! Vai! Ultima girata, l'inchiusura arriva sul 19-4.